Come fare per conoscere i trendi in voga il prossimo anno e quali saranno gli oggetti di tendenza per il 2022? Semplice, basta chiedere a un esperto. Katawiki, piattaforma online leader in Europa per gli oggetti speciali, ha fatto molto di più. Ha chiesto a 240 esperti di creare un report definitivo che raccontasse le tendenze che domineranno gli acquisti in diversi ambiti, arte, moda, design, gioielli, orologi, automobili e in generale tutto ciò che riguarda il lifestyle. E sono sette i temi chiave che secondo le previsioni saranno al centro dell'attenzione di acquirenti e venditori nel corso del prossimo anno. Nostalgia degli anni 90, l'artigianato come sinonimo di qualità e unicità, il valore senza tempo dei grandi classici, il legame con la terra e la natura, la riscoperta del patrimonio culturale, il potere di dare nuova vita agli oggetti, brio e fantasia. Ecco allora che Stefania Giulia Iesi, esperta di moda, ci parla del trend terra e natura. Uno dei trend chiave del 2022 sarà la ricerca di terra e natura. Brunello Cucinelli, ad esempio, sta interpretando questo trend attraverso l'utilizzo di tessuti naturali come lana, cashmere e seta e utilizzando i colori della terra. E ancora, reinventare, riproporre, reimmaginare. Molti di noi aspirano all'originalità e alla libera espressione, per questo reinventare elementi già esistenti per contesti completamente differenti e dare nuova vita a oggetti del passato è una tendenza chiave per il 2022. Nel prossimo futuro pare che la parola d'ordine sia Restomood, che è la combinazione di restoration con pezzi moderni. Una cosa interessante che sta succedendo nell'ambito delle auto d'epoca è l'elettrificazione delle vetture iconiche. Tra gli altri trend troviamo poi l'artigianato come sinonimo di qualità e unicità. Parlare di qualità nella categoria di arte moderna e contemporanea per quanto riguarda l'artigianato significa far riferimento alla qualità dei materiali e alla loro provenienza. Quindi che si tratti di bronzo, metallo o ferro, la qualità delle opere stesse si misura con la qualità dei materiali. Insomma, Catawiki 2022 Trends Report è un rapporto miticoloso e autorevole, realizzato grazie alla supervisione dei migliori esperti attivi in molteplici campi, che definisce le linee guide e una lista di oggetti speciali utili sia per chi desidera comprare che per chi vuole vendere con sempre maggiore consapevolezza.